Gli anziani e Dio, un legame completo. Oggi mi trovo qua, in questo ambiente domestico, per parlarvi di un argomento che sono convinto molti già conosceranno e già sapranno. Ed è quello relativo all'attaccamento che c'è da parte degli anziani, o volgarmente chiamati vecchi, nei confronti di Dio. Un attaccamento, azzardo a dire, viscerale, profondo. Ecco, gli anziani, dovete sapere, cari utenti di YouTube, che nella maggior parte dei casi sono molto credenti, credono molto a Dio. Hanno un attaccamento molto elevato nei confronti della religione. Ora, io parlo dell'Italia, degli italiani, quindi c'è un forte attaccamento da parte di moltissimi anziani, non tutti, ma la maggior parte, nei confronti della religione cattolica. Ora, qualcuno potrebbe stopparmi, bloccarmi e chiedermi, ma perché Leandro? Gli anziani, i vecchi, come tu li definisci, sono molto attaccati alla religione, a Dio, all'entità metafisica? La risposta è molto semplice, ed è perché sentono l'avvicinarsi della morte, della fine di tutto, ok? Sentendo l'avvicinarsi della morte, che sicuramente arriverà per tutti, nessuno escluso, questo significa che arriverà per me la morte, arriverà per te, per i tuoi amici, per i tuoi parenti, per i tuoi genitori, e per tutte le persone che ti circondano. Arriva anche per gli anziani, ok? Solo che mentre un giovane non sa, cioè ignora il fatto che dovrà morire, un giovane non ci penserà mai alla morte, va bene? Cioè i giovani che pensano alla morte non ci sono, perché i giovani hanno la certezza di avere un futuro lungo, di avere una vita lunga, non di avere una vita breve, corta, che dir si voglia, ok? Perché pensano che tanto sono giovani, eh ma tanto sai quando mi toccherà morire? Sai tra quanto morirò io? Uh, tra tantissimi anni. Insomma, i giovani non si pongono proprio il problema. Problema invece che si vanno a porre gli anziani, i vecchi, le persone di una certa età. Le persone anziane, de facto, infatti, vanno a chiedersi. Ma cosa ne sarà di me? Gli anziani infatti pensano, oh Dio, sono arrivato a 82 anni, magari oggi potrebbe essere il mio ultimo giorno, domani potrebbe essere la mia ultima giornata di vita, oh mio Dio. E quindi ecco che un vecchio, un'anziano, un'anziana si preoccupa già prima. Preoccupandosi già prima del proprio futuro avrà paura, avrà timore, avrà terrore ed ecco che sarà molto attaccato alla religione, qualsivoglia essa sia, che può essere l'Islam, la religione cattolica, induista ed altre minori religioni, ok? Il buddismo e via di seguito. Va bene? Ci state fin qui? Se non vi è chiaro qualcosa, chiedete pure. Ora, dove voglio arrivare in questo video di oggi? Io voglio arrivare ad un punto molto semplice, ed è che gli anziani per comodità, per mera comodità stanno appresso a Dio. Conviene ad un vecchio oppure ad una vecchia pensare a Dio, perché in questo modo non sta male, perché in questo modo si tranquillizza, perché in questo modo si rassicura, perché in tale maniera pensa che tanto ci sarà un dopo, ci sarà una vita vera, una vita reale e non una vita astratta come quella che potrebbe essere qui su questo pianeta Terra. Va bene? Quindi, separiamo de facto le cose, separiamo de facto le situazioni e rendiamoci conto in concreto e non in astratto che i vecchi, gli anziani, saranno sempre più attaccati a Dio con il passare del tempo e degli anni. Invece un giovane raramente sarà attaccato a Dio. Fatevi un giro, guardate i vostri figli, i vostri nipoti, come sono attualmente, i vostri ragazzi, i vostri amici, tanto so che mi saluto da un sacco dei ragazzi su questo canale, no? Guardate i vostri compagni di classe, i vostri amichetti, no? E guardate quanti vanno in chiesa, quanti rispettano Dio. Vi renderete conto che quelli che vanno di giovani, che vanno in chiesa, oppure saranno lo 0,0001 per cento? Vi renderete conto che quasi nessuno mette in atto le cose che Dio ha impartito? Vi renderete conto che le preghiere non vengono dette dai giovani? Però dagli anziani sì. Gli anziani vanno a messa ogni domenica, gli anziani pregano, gli anziani si mettono in condizione di applicare gli insegnamenti della Bibbia e o del Bangero e via di seguito. I giovani invece? I giovani no, tranquilli, sereni, anzi bestemmiano, come se non ci fosse un domani, tranquilli e sereni, liberi di farlo. Poi però, arrivati a 80, 83, 84 anni, ecco che subentra la paura, l'ansia, lo stress. E quindi si crede a Dio, si rafforza il credo cattolico, si rafforza il credo religioso. Dio diventa de facto, di fatto, lo strumento ideale per andare avanti. Diventa lo strumento principe per dire, per aspettarsi di trovare un mondo nuovo, un mondo che sia presente in chissà quale realtà, in chissà quale situazione. Va bene? Ora, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però un anziano dovrebbe essere più coerente, più autentico, più concreto e rendersi conto in maniera diretta che sono tutte fiabbe a cui un essere umano si lega per stare bene. Tutto qua. E questo è il mio parere, questa è la mia oppure, questo è il mio punto di vista. Dalle Andro, conoscitore italiano di Roma, Italia e tutto. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro e al prossimo video.